Ciao Goodler, bentornato Carlo che ti parla. Oggi continuiamo il percorso iniziando a descrivere i lettori. La scorsa lezione abbiamo iniziato a trattare i componenti interni al case del pc. In particolar modo siamo partiti dall'alimentatore, ossia il componente che rende vivo i circuiti interni fornendo proprio alimentazione. Qualora ti capitasse di aprire un pc desktop, noterai che nei pressi dell'alimentatore, di fronte specificatamente, trova alloggiamento una serie di componenti. Questi componenti normalmente sono i lettori e i masserizzatori. Partiamo un pochino alla lontana per renderci conto di cosa sono e a cosa servono. Quando stava iniziando l'era informatica, i computer allora non si chiamavano come oggi, ma il nome specifico era o elaboratore elettronico o calcolatore, non si usava il termine computer. Questi elaboratori, questi calcolatori erano dei cassettoni di dimensioni molto ampie, potevano raggiungere anche il volume di una stanza. Questi cassettoni all'interno avevano dei circuiti, dei relais, che commutando effettuano delle operazioni, in sintesi quello che fanno adesso i computer, naturalmente con prestazioni molto maggiori. L'elaborazione di queste operazioni veniva interpretato da un qualcosa che potesse dialogare con il mondo esterno, quindi facesse capire ciò che stava eseguendo con le operazioni. Questo qualcosa era un aggeggio che trasformava il linguaggio incomprensibile per noi del calcolatore in qualcosa di comprensibile o che comunque poteva essere interpretato dall'uomo, quindi trasformava i suoi bit, quindi i suoi numerini, in un linguaggio interpretabile dall'uomo. Chi era bambino più o meno negli anni 70 si ricorderà certamente le schede perforate, ossia dei cartoncini come quelli rappresentati qui in figura, con un numero più o meno vario di fori, di buchi sostanzialmente. Ora, i più giovani, non sapendo di cosa sto parlando, possono sicuramente informarsi meglio su internet, sfruttando, come dicevo anche la volta scorsa Wikipedia. Tutto sommato, come si può realizzare in maniera molto grezza una schede perforata? Potrebbe essere sufficiente prendere un cartoncino a quadretti e un foro a carte, tipo quelle che si usano in ufficio per forare i fogli che poi devono essere inseriti all'interno dei quaderni con i ganci? Beh, non devi fare altro che, in maniera ordinata, seguendo una riga per volta di quadretti, formare dei fori casuali all'interno di ogni quadretto, saltandone magari qualcuno. Terminata la prima fila, passi poi alla seconda, alla terza e così via, fino a terminare più o meno tutto il cartoncino. Alla fine avrai realizzato una schede perforata, al cui interno ci saranno dei quadretti interi e dei quadretti forati, che nella fattispecie, nel linguaggio binario, corrisponderanno ai bit 1 o bit 0. Bit, come accennavo prima, sono dei numeri che fanno parte del sistema binario, comunque questa trattazione la riprenderemo in seguito. Il sistema binario è il linguaggio universale dei computer, quindi hanno questi due numeri, 0 e 1. Questa scheda, quindi con campi pieni e vuoti, contiene di fatto una serie di informazioni che permettono all'elaboratore, al calcolatore dell'epoca, di eseguire delle operazioni, dei programmi, delle funzioni. Tutta questa preistoria, sostanzialmente per dire cosa? Un computer senza una benché minima possibilità di dialogare con il mondo esterno è un componente di dubbia utilità, perché non interagisce. Questi cartoncini, queste schede perforate di cui abbiamo appena parlato, erano il mezzo di interfaccia, quindi di interazione tra la macchina e l'uomo. L'interpretazione da parte dell'uomo e della macchina poteva far sì che l'uomo istruisse, quindi fornisse dei compiti all'elaboratore e l'elaboratore, scrivendo, perforando queste schede, potesse dare degli output, quindi un resoconto delle operazioni impostate dall'uomo. I perforatori, i lettori di schede perforate, all'epoca erano gli antenati degli attuali lettori masterizzatori, che oggi, attualmente, in questa epoca, si chiamano Blu-ray. Quindi, diciamo, il lettore masterizzatore Blu-ray, oggigiorno, è quanto di più performante in termini di capacità che una persona possa avere o a casa o installato sul suo PC. Tornando quindi alla composizione specifica del computer, diciamo che nei pressi dell'alimentatore, quindi troveremo questi lettori, questi masterizzatori. Ce ne possono essere più di uno. Attualmente i più usati sono i lettori masterizzatori DVD, ma come dicevamo, i più tecnologici potranno avere alloggiato nel loro PC un lettore o masterizzatore Blu-ray, anche se ad oggi dal costo abbastanza alto. Questi componenti hanno la capacità di leggere o scrivere informazioni. Leggere il lettore, il masterizzatore, invece, sarà in grado di leggere e scrivere. Queste informazioni sono una sequenza di bit, quindi una sequenza logica di 1 o 0, che sul disco saranno impressi, incisi, dal masterizzatore e il lettore sarà in grado di leggere questi 1 o questi 0. La differenza sostanziale tra un lettore masterizzatore CD e un lettore masterizzatore DVD e un lettore masterizzatore Blu-ray sta nella capacità di incidere sul supporto relativo, compat disk, DVD e Blu-ray, una quantità più o meno ampia di dati, ossia di bit. I lettori masterizzatori si presentano come un parallelepipedo di metallo, quindi una custodia di metallo o di plastica, al cui interno è possibile, frontalmente, è possibile inserire un disco di varia natura, quindi un CD, un DVD o un Blu-ray. Nel redo presenta una serie di spinotti e collegamenti. Questi spinotti e collegamenti poi dipendono dal tipo di lettore masterizzatore. I lettori masterizzatori più vecchi e i CD più vecchi, i lettori masterizzatori CD più vecchi, presentano uno spinotto di alimentazione, l'interfaccia di collegamento che permette di collegare il lettore masterizzatore alla scheda madre, chiamata di tipo IDE, come quella riportata in figura, lo spinotto per l'uscita audio, quindi se all'interno poi inserirai un CD, DVD, insomma un supporto su cui sono incise delle tracce audio, tramite questo spinotto collegato opportunamente alla scheda madre, potrai ascoltare con le tue casse la canzone o il file audio registrato. Poi presentano normalmente anche un selettore, un ponticello sostanzialmente, in grado di poter selezionare quale per il PC è fonte primaria o secondaria, o meglio non tanto per il PC quanto per il processore. Il componente primario che sarà la fonte principale per il processore avrà selezionato questo ponticello con la siga master, mentre il lettore DVD o masterizzatore DVD secondario sarà posizionato, questo ponticello sarà posizionato nella sezione slev, cosicché il processore sarà in grado di definire con quale dialogare come fonte primaria o secondaria. I più recenti invece lettori DVD hanno un'interfaccia denominata SATA. I più tecnologicamente avanzati, i Blu-ray ad oggi, presentano uno spinotto definito come HDMI, quindi uno spinotto ad alta risoluzione perché, come vedremo in seguito, il Blu-ray ha una elevata definizione dal punto di vista della qualità video. Veniamo nel dettaglio alla funzionalità di questi lettori masterizzatori CD, DVD, Blu-ray. Abbiamo detto che il lettore è in grado di leggere, il masterizzatore è in grado di scrivere e quindi masterizzare e anche leggere. Nel tuo case puoi aver installato, passami il termine, un miscoglio di questi componenti, nel senso potrai avere ad esempio un lettore masterizzatore DVD o un lettore masterizzatore Blu-ray. Quindi come puoi comprendere quale supporto legge o scrive il singolo componente? Beh, immagino una piramide. Al vertice di questa piramide oggigiorno trovi il Blu-ray. Sotto questo livello trovi il lettore masterizzatore DVD, sotto ancora la base, quindi il lettore masterizzatore CD. Quindi, partendo dal vertice, diciamo che un lettore o un masterizzatore Blu-ray è in grado di leggere e scrivere qualsiasi supporto esistente oggigiorno. Il lettore masterizzatore DVD sarà in grado di leggere e scrivere sui supporti di pari fascia o di fascia inferiore, ma non quelli di fascia superiore. Quindi un disco Blu-ray non sarà in grado né di leggere né di scriverlo. I lettori masterizzatori CD saranno in grado solo di leggere o scrivere i supporti etichettati con la sigla CD, ma assolutamente non saranno in grado di leggere o scrivere supporti DVD o Blu-ray. Qual è la differenza tra CD, DVD e Blu-ray? Semplicemente la capacità di memorizzazione sul supporto stesso. Infatti troverai CD con capacità di circa 7-800 MB, i DVD con capacità di circa 4,7 GB, non parlando poi dei dual layer, ossia quelli a doppia faccia. I Blu-ray invece siamo nell'ordine dei 30 GB. Quindi sintetizziamo tutto questo discorso. Un DVD sarà in grado di leggere o scrivere su dei supporti etichettati come CD e DVD, ma non su quelli etichettati come Blu-ray. Quest'ultimo invece, essendo al vertice di quella piramide di cui parlavamo prima, sarà in grado di leggere, scrivere, riprodurre praticamente ogni formato esistente oggigiorno. bene, nella prossima lezione proseguiremo con la carrellata dei lettori descrivendo qualche altra funzionalità in più. Non mi resta quindi che ringraziarti per l'ascolto, a presto un saluto, ciao da Carlo.